Ciao ragazzi, siamo a Lance Rail, è ormai quasi un mese, le vacanze stanno volgendo al termine. Adesso vi faremo vedere un po' cosa sappiamo fare sui sentieri qua sotto. Faremo una sfida di quanti suicider dobbiamo fare in una discesa. Vediamo come andranno adesso per la gara di suicider. Vediamo se ci fa qualcosa qua. Siamo a 1. 2. Ci sono divertentissime. Poi c'è la hip del terrore. Il terroirizzano. 3. 4. 5. Ora c'è la linea grande. Pensa che se mi farà qualcuno qua. Com'è? Oh! Vabbè siamo a 5 mi sembra. Ora sono nella parte bassa della rossa. Pensa. Pensa che se mi faranno migliaia di suicideri. 6. 7. 8. 8. E anche se mi fa qua. Vedi che mi ha dato le mani ma non ero a full side. Qui c'è il taglio illegale Ok, adesso è il turno di Oscar Uno 1 2 3 e 4 ok Oscar c'è il trenetto che è atterrato con una mano sul sottoli ok siamo sulla seconda parte della rossa perché se la linea è grande Oscar mi fa sul side questo potrebbe essere il quinto 6 e 7 le mani non erano dietro la schiena però va bene così ragazzi sono tornati a casa oggi era il primo giorno di scuola per l'insterride basta mi sa vi ricordo di iscrivervi al canale di ametbmag e anche di andare a seguire me e Axel sui nostri canali che ogni tanto pubblicano qualcosa ciao a tutti e ci vediamo alla prossima